Ci tenevamo soprattutto incontrare voi per fare il punto che è solo quasi emblematico per i 100 giorni di mandato di questa amministrazione che è uscita vincente al primo turno nel mandato nel passaggio elettorale del 27 e 28 marzo scorso. Ci tenevamo intanto per sottolineare quel dato oggettivo che per noi era molto importante e che si è concretizzato attraverso l'elezione al tuo notturno ma che ha tutto un percorso di condivisione con la città rispetto intanto al programma che poi è stato approvato dal Consiglio Comunale, quindi dalla mozione programmatica tradotto in atto di indirizzo di governo e per una coalizione molto compatta e coesa e se mi permettete anche un esecutivo molto rinnovato, molto politivo e pieno di entusiasmo. Io posso dire che la scelta che è stata fatta dal sottoscritto qualche periodo fa, ovviamente nei 100 giorni, oggi si traduce in una grande soddisfazione per il lavoro che stiamo facendo insieme, per una piena condivisione degli obiettivi programmatici e per il contributo che ognuno mette a disposizione in questo concetto di squadra, di lavoro, di sinergia che a me piace molto e che penso sia un elemento di grande forza per il futuro di questa città.